Le rovine piramidali di Casteldoria, maniero feudale con la cisterna e la torre pentagonale ancora in piedi, si innalzano pittorescamente in cima a una collina isolata ai piedi della quale scorre il Coginas, uno dei meno esili corsi d'acqua dell'isola, che come la Corsica non ha veri e propri fiumi. Questo castello è stato per secoli la principale postazione bellica dei Doria, la stessa potente famiglia dell'eroe di Genova, quella che difese con coraggio l'indipendenza sarda contro la conquista ragonese. Casteldoria fu demolito dagli arroganti vincitori e anche dai coltellinai, si può aggiungere, perché la pietra spugnosa usata per la costruzione è molto adatta ad affidare le lame. Ai piedi della collina, nella sabbia, ci sono acque termali solforose, eccellenti per le malattie cutanee. Ma non vi è uno stabilimento, né vi è traccia di una sua esistenza in passato. Lì vicino doveva trovarsi l'antica Ampurias, famosa nel Medioevo per le giostre e i tornei che rivaleggiarono con quelli di Barcellona. Ponzio Ugo III, conte di Ampurias, era nel XIV secolo un illustre trovatore catalano della corte d'Aragona. Egli aveva preferito la qualità di poeta e di cavaliere alla sovranità. Il suo linguaggio finì nell'oscurità e le sue poesie, prima così ricercate, si sono perse. La diocesi della città distrutta ne porta ancora il nome. Cosa singolare. Benché Ampurias sia stata abbandonata dal vescovo e caduta in rovina solo verso il 1565, la sua ubicazione non è meno incerta di quella di una città antica. L'opinione più probabile è che Ampurias fosse situata dove si vedono i resti di Bidalva, la città bianca, che consistono in diverse chiese e un granaio pubblico e dove si rinvengono delle monete. È tradizione del paese e dei pastori rustici e antiquari abitare le cussorge vicine.